Il riconoscimento del Caracciolo come effettivo ospedale di area disagiata e maggiore attenzione alle malattie tempodipendenti anche attraverso l'attivazione dell'elisoccorso se necessario. Questa la richiesta del sindaco di Agnone Daniele Saia che nel corso del consiglio comunale ha lanciato un appello alle istituzioni affinché l'ospedale di Agnone possa erogare e implementare i servizi sul territorio per garantire la pronta gestione delle emergenze in loco. Quello che ci preme è avere l'ospedale di area disagiata, particolarmente disagiata, configurato come da DM70. Questo è quello che noi pretendiamo e lotteremo per avere. Dopodiché lavorare sull'emergenza urgenza, su tutte quelle patologie, trauma, ictus e infarto dove ci deve essere una risposta immediata se dovrà essere l'elisoccorso, che sia elisoccorso ma anche in questo caso i tempi devono essere rapidi. Cioè dalla decisione ufficiale alla realizzazione di quello che serve per tranquillizzare la popolazione dei nostri territori ci devono essere delle risposte immediate, istantanee. All'ordine del giorno anche il viadotto sente che per Saia è l'asse centrale che collega Agnone al vicino Abruzzo e pertanto rappresenta anche un importante trampolino per la mobilità attiva e per la microeconomia locale. Adesso si dovrà lavorare assolutamente per rimettere a posto un'opera d'arte unica in Italia e quindi ci dovrà essere l'impegno di tutto il territorio ma anche del governo e dei parlamentari sia del Molise che dell'Abruzzo che devono aiutarci in questa battaglia anche perché per quanto ci riguarda, l'abbiamo sempre detto e lo continuiamo a sostenere, il sente è l'asse centrale di quella che deve essere la transcollinare che dovrebbe collegare Campobasso alla Val di Sangro. Si è parlato anche della gestione delle reti idriche che non è più affidata ai singoli comuni ma ha subito il passaggio alla società Grim. Abbiamo prima subito la norma nazionale con la quale abbiamo dovuto creare i comitati d'ambito EGAM e oggi avremo questa ulteriore evoluzione ERIM, Moliseacque e IGRIM.